Daniele Liparelli, secondo livello per questo periodo in cui vi vede sempre impegnati a Liva Lottatori perché c'è la Coppa Italia, affrontate l'Atletico Ciampino, una squadra che sembra essere la stessa pagina vostra in questo momento del campionato perché è terza in classifica, voi siete quarti, però avete fatto un percorso molto simile. Beh, diciamo che comunque affrontiamo una squadra di valore che ha le stesse caratteristiche nostre, però noi non ci preoccupiamo, guardiamo avanti e comunque puntiamo sia a fare bene in campionato sia in Coppa. Quindi ci puntate perché c'è l'ambizione di poter giocare alla Final Four che arriverebbe direttamente in caso di successo in questa partita. Esatto, anche perché a Civitecchia le Final Four non arrivano da non so quanto tempo e puntare alla Coppa Italia diciamo che anche per un giovane come me è una bella soddisfazione. È arrivata dalla vittoria che c'è stata contro il Valcanneto, una gara che è iniziata proprio al meglio con il 2-0 per la formazione ospite poi vi siete subito riscattati. Filippone poi già avrà avanti. Eh beh, diciamo che l'approccio alla partita non è stato dei migliori, però sotto le istruzioni di mister Tangini e diciamo anche la nostra forza di gruppo siamo riusciti a riprenderla e ribattarla. Mister Tangini ha detto ancora dovete pensare alla salvezza, tu sei pessimista quindi sei dalla sua parte. Allora, sì, diciamo che io sono molto dalla parte di mister Tangini perché sono un ragazzo che sta molto per i piedi per terra e ci rispecchiamo un po' tutti dal gruppo. Però certo, puntare alla Serie B è una bella soddisfazione diciamo.